Ciao Grazie Buongiorno Let's go 105 e 104 Un saluto Francesco e un punto del prossimo Quattornici 113 Quattornici 113 Quattornici 113 Sì Quattornici 113 3 4 2 4 5 113 113 e 14 113 e 14 15 15 15 15 16 17 16 18 17 vivi attraverali 18 17 19 19 19 puttana 19 16 vai 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 113 105 si vediamo da prendere 20 va a 5 105 3 3 3 4 15 vai 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 113 105 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 14 18 15 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 Grazie. 107-113 sono apprese con i bossi abbiamo tutti della Vesegna 150 di 100 105 di 100 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 7 unhanno non Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti